e la loro collaborazione e il prossimo con cui si possono incorporare nella vita i veri valori di sicurezza e di benessere innalziamo la nostra preghiera per l'assestamento e lo splendore della Santa Chiesa di Gesù per l'amore e lo spirito di benevolenza e per il rafforzamento della pace e della concordia nel mondo invochiamo il sostegno del Signore per sua santità augurandole lunghi anni di ben portante e fecondo governo in splendore della Chiesa Cattolica e in consolazione dei fedeli sia benvenuto in Biblica Terra d'Armenia che nella sede madre della Santa Echmiadzin che la misericordia, la grazia, le benedizioni del nostro Signore e Salvatore di Gesù Cristo Gesù Cristo siano con noi tutti abbiamo così ascoltato il discorso Garieaghi in secondo ascoltiamo ora il discorso del Santo Padre